Uscita segnale sinusoidale e uscita scheda quarzata 50 Hz, dopo il filtro passo basso, segnale 4 volte di picco a picco, uscita, uscita segnale 12 KHz dalla scheda oscillatore, dopo il filtro passo basso e un voto d'uscita. Che va nella scheda mix, uscita segnale dalla scheda controllo tensione, 5 volte di picco a picco, questo è il segnale che esce dalla scheda controllo tensione, miscelato con 50 Hz e 18 KHz. E questo è il segnale che va su gas, dopo il trasformatore pilota, 16 P16, abbiamo 30 volte di picco a picco, 30-32 massimo, con il massimo segnale con il trasformatore di potenza staccato, scollegato. E questo è il segnale che va a cercare di picco a picco a picco a picco a picco a picco a picco,